Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Ma è lui oppure no? Tra i tanti membri della Royal Family britannica, c'è un Windsor che sembra la copia dell'erede al trono William. Il caso vuole che anche sua moglie ricordi in modo deciso Kay Merrothan, per lo stile e per i lunghi capelli castani. Si tratta di Lord Frederick Windsor e della consorte Sophie Winkleman, il cugino di secondo grado di Re Carlo, 45 anni, e la moglie attrice, 44 anni. Hanno preso parte a un concerto natalizio a Piccadilly e molti Royal Watcher, non hanno potuto fare a meno di notare la somiglianza con i principi di Galles. Del resto il DNA non è un'opinione e il gene Windsor è ben visibile. Anche Lord Frederick soffre di calvizie. Come i cugini L'unico figlio del principe Michael de Kent, cugino primo della compianta Elisabetta II, è al 53esimo posto in linea di successione al trono britannico. È un analista finanziario ed è sposato con l'attrice dal 12 settembre 2009. La coppia ha due figlie femmine, model Elizabeth Daphne Marina, nata nel 2013 a Los Angeles, e Isabella Alexandra May, nata nel 2016 a Londra. Grazie. Grazie.